e io big of me family, peace and love, reggae mestizzi in the house, Elvita casa tesoro? lui è il dato fan si, quello era la domanda vuoi dire sabato 7 giugno? si, sabato giugno sabato 7 giugno ci vediamo a Valli Caldi stage, open stage, da Grigento con DJ Beating, OneKilla della San Leone Massive e tutti gli artisti di strada Elvita, Bbc con reggae mestizo per me con Bacchina di Island, un ritorno sull'isola magica del sud rappresenti Naretsuska Sound per tutta la gente che ha visto farmi un freestone stage Elvita, Bbc con reggae mestizo Wallo 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 Ragged music, original style